Allora, eccoci insieme, intanto noi commentavamo varie situazioni e vicende. Allora, vorrei riprendere il punto di partenza. Nasce un bimbo in una famiglia, tra l'altro, desideratissimo, perché in molti casi non capita, ormai non capita più, se non raramente, tra capo e collo, ma c'è una maternità, una paternità responsabile, cercata, voluta, costosissima, perché poi chi fa tutte le inseminazioni artificiali, perché non ce l'ha l'età giusta, perché prima dottorarsi un lavoro, quindi tutta una serie di dinamiche sociali che una volta non esistevano, che adesso ci sono, arriva questo bambino, questi bambini, pieno di coppie di gemelli in giro, e c'è il periodo di maternità, durante il quale si svolgono certe dinamiche, ma il bambino è troppo piccolo, finita la maternità, la madre deve ritornare, dovrebbe riuscire a ritornare nel mondo del lavoro, quanto prima, proprio per non perdere i contatti con questa realtà. Se non altro in un contesto sociale, di impegno, per cui se no viene assorbita e muore nell'ambito di una famiglia che la inghiotte completamente, cosa scatta a questo punto e perché scatta lì il senso di colpa, di inadeguatezza, di frustrazione, che devasta la persona, perché la madre poi è una persona che dovrebbe avere un suo equilibrio da trasmettere ai figli. Sì, certo. Allora, diciamo che, come dire, il rientro al lavoro è difficile per tutte le mamme, nel senso che... Quindi bisogna prepararsi anche il rientro al lavoro, non è uno scherzo. Ci sono mamme che lo desiderano molto, proprio perché, come diceva lei prima, in qualche modo basta, ok? Tre, sei mesi col bambino adesso a seconda delle maternità, ci sono mamme che riescono a prendersi la maternità di un anno, che è molto bello, ecco, voglio dire, però è un anno vissuto a stretto contatto solo con il bambino, occupandosi solo di problematiche, poi anche fisicamente, emotivamente abbastanza pesanti e impegnative, per cui il ritorno al lavoro viene visto proprio come, no, respirare di nuovo, aria nuova e soprattutto il reinserimento in un ambiente sociale che non è fatto solo di mamme, pannolini, pappette, eccetera, quindi proprio persone che possono parlare anche di altro. Però, siccome c'è stato, parliamo chiaramente del rientro al lavoro di una donna che ha avuto il bambino per via, diciamo così, naturale, però io questa dinamica l'ho vista molto anche, per esempio, nelle mamme che adottano, anche se arrivano magari bambini un po' più grandi, che quindi richiedono un certo tipo di cure, comunque diverse, la maternità è sempre quella, il periodo di maternità è sempre quello e vedo che comunque c'è poi la fatica. È la fatica del distacco, perché in qualche modo il bambino che è arrivato è un nuovo essere con il quale si deve costruire una nuova relazione e quindi questi mesi passati insieme sono serviti a conoscersi, a capirsi, ad attaccarsi l'uno all'altro. Il bambino ha necessità di attaccarsi alla madre, primi tempi proprio per sopravvivenza, e la mamma ha necessità di attaccarsi al figlio per soddisfare i suoi bisogni. Ed è proprio questo distacco che crea in qualche modo la difficoltà sicuramente nel senso del dispiacere, questo per tutti. Un po' di senso di colpa perché se fino adesso il bambino è stato con me, ed è stato bene perché io l'ho accudito, con chi andrà adesso? Saranno altrettanto bravi a soddisfare tutti i suoi bisogni. Lo capiranno quindi appieno? Capiranno il bambino perché il pianto, se piange, poi ecco si vedono queste mamme che magari portano i bambini, faccio l'esempio dell'asilo nido perché ormai è abbastanza diffuso, e mille raccomandazioni alle educatrici se fa così, o anche ai nonni, tante volte quando li portano i nonni o arrivano a babysitter, perché se fa così sarà questo, perché se fa così sarà quell'altro, perché se farà così... Il più delle volte poi il bambino in un ambiente che non è casa sua o con una persona che non è la mamma, tutte quelle cose non le farà. Cioè è proprio, come dire, è proprio studiato, esatto. Ecco, c'è proprio, come dire, è il bambino che io ho curato, lasciarlo, si vive come una sorta di senso di abbandono. Cioè la paura di abbandonare questo bambino, ma il più delle volte, se andiamo poi a vedere, è una sofferenza della mamma, cioè è la mamma che fa fatica in quel momento a staccarsi da questo legame così forte. È vero che il bambino poi, soprattutto i primi inserimenti nel nido, piuttosto che le babysitter, perché poi magari i nonni li ha già conosciuti bene, per cui c'è una forma di abitudine anche, piange. Ecco, tante volte i genitori prendono questo pianto come un sintomo di disagio. Se piange vuol dire che non sta bene qui. Invece noi dobbiamo vedere quel pianto come un sintomo di sanità mentale. Il bambino che piange quando si allontana dalla mamma vuol dire che è un bambino che ha stabilito con lei è un buon rapporto e quindi sente la sua mancanza. Anche se non eccessivamente, che non sia una cosa che senza... No, certo. Ecco, poi, come dire, la misura su cui si valuta se il bambino sta bene in questi ambienti, gli asili piuttosto che appunto le altre persone che lo accudiscono, di solito sono il sonno e i pasti. Se il bambino mangia e dorme tranquillamente è un bambino che si è ben adattato anche se nel distacco dalla mamma ha fatto la scenata, diciamo così, la scenata del pianto, eccetera. Altro è un bambino che non è consolabile, che comincia a piangere e piange tutto il giorno. È l'inconsolabile perché non è un capriccio? Il più delle volte sono bambini un po' ansiosi, che però... No, non necessariamente sono capricci, sono bambini un po' ansiosi che però hanno sentito l'ansia della madre che si allontanava. Quindi è il genitore che trasmette l'ansia e la sicurezza al figlio. È il genitore che trasmette l'ansia, sì. Il più delle volte anche le educatrici dei nidi dicono lasciamelo qui, digli ciao e vai via, anche se lo senti piangere. Ci sono genitori che non riescono a farlo. Lo sentono piangere, continuano a rimanere lì con mille raccomandazioni. Guarda che torno, stai tranquillo, vedrai che torno, la mamma torna presto, ti vengo a prendere subito, qui starai benissimo. Nella testa di un bambino cosa scatta? Se la mamma ha tutto questo bisogno di rassicurarmi, evidentemente qui succede qualcosa di brutto. Ah, ecco, quindi... No, invece la mamma che dice ciao, ci vediamo dopo, è una mamma tranquilla e serena che trasmette al bambino un messaggio di fiducia. Vado via tranquilla perché le persone che ti cureranno adesso sono brave e il bambino si affida. Poi anche lì varia, nel senso ci sono bambini che si adattano molto più facilmente agli ambienti extra familiari, bambini che fanno un po' più di fatica, però questa è una variabilità personale in qualche modo. Abituare il bambino, quindi superando il proprio senso di colpa, subito ad altri ambienti, ad altre persone, ha una variabilità di persone o gli si crea troppa fiducia negli altri? Qual è la via migliore? Allora, io credo che nel momento in cui si è stabilito un buon legame con i genitori, e questo chiaramente nei primi mesi di vita, l'inserimento, tra virgolette così, di altre persone è solo positivo. Il bambino, a parte il fatto che appena nasce un bambino, c'è l'invasione della casa, no? Da tutti, perché i nonni, gli zii, gli amici che vogliono vedere questo bambino. Io, quando si tratta di bambini piccoli, dico sempre... Però, ecco, non è vero, non solo con i bambini piccoli. Questo mi è capitato spesso anche nel campo delle adozioni, di dire ai genitori, i primi tempi in cui proprio vi state conoscendo, e quindi dovete prendere un po' i ritmi gli uni degli altri, cercate di tenere molto privati alcuni momenti importanti della giornata, come il sonno, per esempio, l'addormentamento del bambino, che può essere il pisolino pomeridiano, può essere la sera, o i pasti. Sono momenti in cui si creano dei rapporti così intimi e importanti tra genitore e bambino, che è bene che siano curati dai genitori, mamma e papà, ecco, non dico solo la mamma per forza, o comunque un genitore e il bambino, senza grosse invadenze esterne. Un po' perché spesso le invadenze esterne tolgono autorità ai genitori. Credo che sia abbastanza, come dire, uso la scenetta più criticata, che fa anche più ridere, quella della mamma che dà da mangiare al suo bambino con la nonna che dice, non così, non cosà, questo bambino non mangia abbastanza, vedi che questa cosa non l'hai fatta bene, ecco, questo è abbastanza tipico. Si toglie autorità in qualche modo al genitore. Quindi sono momenti che, secondo me, vanno tenuti molto intimi, molto privati. Ecco, a questo proposito, siccome l'alimentazione appunto sono due elementi anche educativi molto importanti. Il fatto che si vede anche di frequente che magari il bambino a scuola deve seguire all'asilo determinate regole di comportamento, perché altrimenti se ognuno facesse quello che vuole sarebbe un disastro, mentre a casa non sta seduta a tavola, vai in giro, la mamma che gli corre dietro per dargli da mangiare, o la merenda, il bocconcino di qua, non ti piace questo, cambia me. Cioè, tutto è una cosa, un caos incredibile, devastante e defatigante, agli occhi delle strane, ma ancor più poi immagino per chi lo vive. È corretto o non è corretto? Cioè, come comportarsi, come è giusto che il bambino impari da subito le regole, per esempio, quando si va a mangiare? Allora, mettendo da parte casi particolari, non so, ci sono effettivamente casi di inappetenza particolare per cui il bambino richiede un'attenzione nell'essere nutrito in un certo modo, ma questi sono i casi segnalati dal pediatra. Cioè, nel momento in cui una mamma responsabile e attenta porta ai controlli pediatrici il proprio bambino e il pediatra dice che il bambino sta crescendo bene, io credo che non ci sia da preoccuparsi eccessivamente. Oggi non ha mangiato, non succede niente. Per fortuna, nel nostro paese non si muore di fame. Parliamo, ripeto, di bambini sani che si sviluppano così, secondo le norme previste dalla medicina. Anche lì, il rincorrere il bambino per farlo mangiare spesso diventa un... è legato, sempre per tornare sul senso di colpa, ha un'immagine che la madre ha di sé o che le è stata tramandata. La brava madre è quella che sa nutrire il suo bambino. Molte madri vanno in crisi di fronte al bambino che non mangia perché lo vivono quasi come un affronto personale, ma non un affronto nel senso dell'offesa, ma è un... non è il bambino che non vuole mangiare, sono io che non sono in grado di nutrirlo. E quindi lo inseguono da tutte le parti, lo assegono. E quindi lo inseguono, o gli cucinano mille cose. No, questo non lo vuoi, allora ti preparo questo. oppure ti preparo questo, oppure ti preparo quell'altro. Allora, se questo può avere un senso nella fase, diciamo così, dello svezzamento, quando il bambino sta conoscendo dei gusti per cui uno prova cosa piace di più, non ha più senso quando cominciano a mangiare, diciamo così, le cose normali che mangiano anche gli adulti. Io vedo, ecco, giustamente, ha fatto cenno al discorso degli asili, piuttosto che delle scuole. Cioè, nelle scuole c'è sempre la guerra della mensa. Non mangiano bene in mensa. La mensa non cucina bene. Poi si sa dalle maestre che ci sono bambini che prendono il piatto e senza neanche assaggiare lo buttano. Perché quella cosa io non la mangio. Ecco, ma non parliamo, voglio dire, di un piatto particolare che giustamente... Per partito preso come... Per partito preso. Bambini che mangiano solo pasta in bianco o solo la pasta col sugo bollito e che non assaggiano nient'altro, no? Ecco, non assaggiare, vabbè, è un po' tipico in generale di bambini, ma che cosa potrebbe nascondere? Nei bambini che, diciamo, durante lo svezzamento, perché è lì che poi imparano a mangiare, a fare il gusto delle cose, il bambino che fa più fatica ad essere svezzato, quindi al passaggio, per esempio, dal latte al cibo, è un bambino più diffidente, un bambino che ci mette un po' di più a provare le nuove esperienze. Ci sono bambini che si buttano, no? Nella nuova esperienza. E anche lo svezzamento è abbastanza indicativo di questo. I bambini che incominciano subito, anche a giocare con la pappa, se vogliamo, sono bambini che sperimentano. E questo è legato molto al carattere. Il bambino un po' più diffidente, poi lo si vede anche quello che, prima di entrare in relazione con gli altri, ha bisogno del suo tempo per studiare l'ambiente, le persone, e poi si butta nel gioco. Non è un bambino patologico, diciamo, è semplicemente una questione, una forma di carattere. Nel bambino più grande, che non assaggia per partito preso, direi che è un capriccio. È un capriccio. Bello e buono. Direi sì. Quindi non va se può. Assaggiare e dire non mi piace, va bene, poi se non ti piace lo so. Quindi forzarlo in questo, perché il rapporto col cibo è anche un rapporto psicologico molto profondo, che poi si va a instaurare un domani, nell'affettività e così via, nell'approccio con gli altri. Per cui forzarlo nell'assaggiare a questo punto. Ecco, forzarlo in un certo modo, però io non sono così favorevole alle forzature, ma alla fermezza sì. Nel senso, ci sono mamme che questo non lo assaggia, allora ti preparo un'altra cosa. No, c'è questo. Se vuoi mangiare oggi, assaggia. Quindi dimostrare in generale, questo anche lei lo dice, sicurezza. Sicurezza, determinazione, essere convinti, senza senso di colpa. Quindi torniamo sempre al discorso. Non avere senso di colpa di averli preparati una bistecca di pollo, anziché, che so io, il formaggio alla piastra, fare l'esempio. Sì, ecco, come dire, il genitore deve fare un po' questa... Allora, essere sicuro e in qualche modo prendere in mano la situazione. Cioè i bambini, figli in generale, non solo bambini piccoli, ma anche più grandi, hanno bisogno di sentire che il genitore e l'adulto in generale, educatore, che quindi in qualche modo rientra in vari ambiti della loro vita, ha in mano la situazione. Nel momento in cui loro sentono l'adulto sicuro nella gestione della situazione, che può essere il pranzo, può essere il sonno, può essere la scuola, può essere il gioco, qualsiasi cosa, sono bambini che seguono. Seguono la regola. E quando vedono l'adulto allo sbaraglio, che loro giustamente ne approfittano e quindi creano il caos più totale. E la stessa cosa quindi per, diciamo, per il cibo. Questo però l'adulto lo può fare solo se mette a tacere il senso di colpa. Quindi mettere a tacere il senso di colpa. Questo è un altro aspetto. Torniamo tra pochissimo con voi, con la dottoressa. Pubblicità. Grazie.